Il Papa, nella messa a Santa Marta, celebrata alla presenza dei rappresentanti pontifici, ha preso spunto dalla parabola del seminatore per soffermarsi su come i nunzi possano e debbano seminare la buona notizia in ogni parte del mondo, per quanto la loro vita sia spesso instabile e li costringa a vivere come gli zingari per andare in un posto e poi in un altro senza fermarsi mai. Qualcuno, ha osservato il pontefice, può pensare che quello del nunzio sia un lavoro troppo funzionale, amministrativo più adatto ai laici, invece è importante farlo prendendo la propria croce, uscendo da se stessi e seminando sempre il seme buono della parola, ma anche stando lontani dalla mondanità, cercando di farsi prossimi alla gente, di capire gli altri, di dialogare. Altro invito del Papa rivolto ai nunzi è stato quello di non avere paura di ricominciare ogni volta, con gioia ed entusiasmo anche nella difficoltà, perché questa è la testimonianza più grande. Tre le uscite che spettano ai rappresentanti pontifici e su cui Papa Francesco ha insistito, quella fisica del fare le valigie e partire, quella culturale che presuppone imparare la lingua e entrare in contatto sempre con nuove abitudini e culture, la terza uscita è quella della preghiera, perché Dio faccia crescere ciò che con fatica è stato seminato.